Ciao Paolo, tu sei il mio figlio, io sono il salutatore, faccio i saluti con i grandi, ti seguivo da piccolo perché hai un look bellissimo e poi ti distinguevi per la classe, perciò io ti faccio i complimenti, posso dire che sono un po' fan, tra i giallorossi per me sei il numero uno, poi vieni Totti e vengono gli altri ragazzi, sono serio. Grazie, mi fa molto piacere. Anche a me, da tanto che volevo incontrarti, so che stai a Rimini, sei nato a Riccione, ti seguo e ti volevo chiedere un saluto a tutti i tuoi fanni che ti seguono. Beh, ormai di fan che mi seguo, a tutti gli amici, un saluto caro a tutti voi, è stato un piacere aver suscitato emozioni, mi avete regalato momenti bellissimi, per cui vi sarò grato per sempre per quello che mi avete regalato. Ecco, io ti ringrazio e ti do la manina del salutatore per salutare tutti i tifosi della Roma e tutti i tuoi tifosi. Grande Paolo Conti, ciao, ciao.